Quando si arriva al novantesimo siamo tutti in postanti e la percezione può essere sbagliata. Però quando ci si accorge di questa serie di percezioni sbagliate, non credo sia stata voluta, no? La cosa magari è davvero l'arbitro si è sentito le mani addosso in maniera diversa di come è caldo, e ci può stare. Però una volta che si vede in un'immagine penso che questo sia sbagliato. Deba valere quantomeno. Sì, ha una percezione sbagliata, ce l'ho io, ce l'ho un giocatore nella distanza, nella scelta, in qualsiasi cosa succede. Un giocatore scorretto, come siamo abituati a vedere, quello che gli è successo a Porta che sono state messe le mani al collo, sarebbe caduto, avrebbe fatto 3-4 capriole come si vede di solito, invece no, non l'ha fatto. Quindi ci sta di sbagliare, ci sta di avere una percezione sbagliata da parte di tutti, l'importante è poi avere anche l'immigità, penso, di ammettere che sia una percezione sbagliata.